La vita di oggi tenta di farci sembrare importanti molte cose. E-mail, telefonate, pubblicità e tutto ciò che in un certo senso ci travolge. Ma alcuni dei momenti più felici e più intensi della mia vita sono quelli trascorsi con i miei figli e con la mia famiglia. Momenti come questi, quando partiamo e facciamo cose così, quando ci allontaniamo dal mondo e stiamo insieme ai familiari e possiamo rilassarci e ridere insieme perché la mamma dice qualcosa di assurdo e mio fratello Casey le risponde. Si cresce e si diventa grandi e ciascuno prende la sua strada e si fa una vita propria per realizzare i propri sogni. Perciò è molto bello ritrovarsi e ravvivare i rapporti. Se abbiamo bisogno di qualcosa ci siamo sempre gli uni per gli altri. Ci sentiamo spesso per telefono e dicono che stanno bene, che tutto è a posto. Però non riesci a capire veramente come vanno le cose durante i cinque minuti di una telefonata. Ma se ti riunisci come famiglia allora puoi vedere come stanno insieme, come reagiscono l'uno nei confronti dell'altro e se sono felici o se ci sono problemi. Ne parliamo tutti insieme, cerchiamo una soluzione tutti insieme. Il successo del matrimonio e della famiglia è fondato e mantenuto sui principi della fede, dell'amore, della compassione, del lavoro e delle sane attività ricreative.